Ciao a tutti, bentornati sul canale. Vi ricordo io sono Maurizio, qui parliamo di carriera, lavoro e finanza personale. Fondamentalmente in queste live rispondo alle domande che sono state fatte nel canale Telegram e alle domande che vengono fatte qui in chat. Ciao anche ad Emma. Allora, partiamo subito dalla domanda di HP Lifer. Azienda in crisi vista la situazione macroeconomica, con conseguente riduzione di lavoro con ammortizzatore sociale. È ragionevole cercare subito lavoro altrove o conviene aspettare? Immagino che quando parli di ammortizzatore sociale stai parlando della parte forse di solidarietà. Vi spiego come funzionano alcuni meccanismi. Per esempio ci sono delle aziende che quando sono in difficoltà per evitare licenziamenti distribuiscono tra tutti quanti gli impiegati il sacrificio, se vogliamo. Per cui, che ne so, ogni tre settimane diciamo in alcuni casi ho visto che un giorno e mezzo lavorativo al mese viene perso da tutti, con conseguente riduzione in proporzione anche dello stipendio, questo per evitare che qualcuno perda il lavoro. Questi sono i contratti di solidarietà iper semplificati. Quando parli di ammortizzatore sociale forse stai parlando anche di cassa integrazione e via dicendo. Allora, per me una regola generale è quella del tenere sempre l'orecchio a terra, un'espressione che ho ereditato dal professor Trovato con cui ho fatto la laurea tanti anni fa, ormai siamo a 25 anni fa, perché in generale il discorso dell'avere sempre l'orecchio a terra rispetto al mercato del lavoro è una buona cosa. Ci aiuta a ricordarci di avere tutto quanto sempre pronto, dal curriculum, LinkedIn, il network attivo e via dicendo, perché, come ripeto spesso, non c'è niente di peggio del iniziare a fare network, a fare certi step, quando abbiamo l'acqua alla gola, quando sono fondamentali e necessari per noi. Perché in quel momento molto probabilmente, non dico che andremo in panico, ma avremo fretta, ansia, visione tunnel e via dicendo. Quindi il punto del guardarsi attorno, tenere l'orecchio a terra e vedere cosa c'è, a mio avviso è sempre valido, in particolare se sei in una situazione delicata come questa. Anche perché dovete considerare, anche a livello un attimo più strategico, no? Se c'è il rischio che da qui a X mesi o a un anno ci sia un'ondata di centinaia di persone sul mercato, ovviamente le aziende, le altre aziende faranno shopping più facilmente. Pensate soltanto a quello che sta succedendo con i lay-off grandissimi delle aziende, proprio oggi mi sembra, o ieri Amazon ha comunicato altri 9.000 licenziamenti, tantissime aziende hanno numeri, cifre molto importanti, magari in percentuale rispetto al loro organigramma marginali, però comunque sono persone che da un giorno all'altro saranno sul mercato del lavoro. Per cui, secondo me, può aver senso a livello di organizzazione strategica e tattica muoversi prima. Attenzione però, a seconda anche dell'azienda, delle posizioni e tutto, a non perdere delle opportunità. Ora, non voglio banalizzare, però ci sono anche delle situazioni in cui, per esempio, in base alla seniority, o in base all'azienda, o in base al contesto, potrebbero anche esserci dei pacchetti, gli scivoli, dei social plan, magari anche interessanti. Ecco, sarebbe un peccato rassegnare le dimissioni e poi magari dopo un mese scattavano le condizioni per avere un pacchetto d'uscita interessante e allettante. Allora, non posso risponderti con così poche informazioni, però tenete in considerazione anche questo aspetto, che nelle dinamiche del mercato, dei turnover e delle purtroppo riduzioni di organigramma, per quanto dolorose, possono esserci degli aspetti almeno da sfruttare. Cioè, sarebbe veramente un peccato lavorare 15 anni in un'azienda e proprio nel momento in cui ho l'opportunità di fare un po' cash-in di quella che è la mia seniority, me ne vado il giorno prima, spontaneamente, e mi perdo tutto quanto. Quindi, come sempre, prima di prendere una decisione, cercate di raccogliere il maggior numero di dati e informazioni possibili. Lato appunto, attenzione al mercato, quella sempre, e sicuramente ha anche senso muoversi per tempo e poi magari temporeggiare se dovesse esserci una situazione come quella di quell'altro tipo. Poi entrano in ballo tantissimi altri settori, altri fattori da considerare, perché ovviamente, come dicevo prima, quando uno ha l'acqua alla gola, la paura di rimanere senza lavoro, o magari anche una situazione economica che, perdendo X mesi di lavoro, sono in difficoltà, allora si tende a magari muoversi velocemente, accettare di tutto. Per quello, più abbiamo tempo di preparare e organizzare, meglio è. A me è capitato, durante le consulenze individuali, di parlare con diverse persone che oggi si stanno mettendo in discussione e si stanno rimettendo sul mercato proprio perché magari qualche tempo fa, in previsione di una perita del lavoro o avendo perso il lavoro, hanno preso la prima opportunità che c'è stata, senza nessuna pianificazione, senza nessuna visione d'insieme, e va benissimo, siamo tutti esseri umani, però poi la sconti perché magari dopo già un anno le cose ti vanno strette, non funziona, e quando ti è passata quella fase di panico che ti ha fatto prendere qualunque cosa era disponibile, la prima anzi disponibile, ecco che là poi vengono tutti quantino di alpettine e devi rimetterti in discussione. Quindi tanti fattori da considerare. Come comportarsi se alla richiesta di una promozione si ha un rifiuto? Immagino, stai parlando, Samuele, se tu chiedi una promozione e ti dicono di no. Immagino sia quella il punto. Ora, diciamo che secondo me ci sono un paio di aspetti da considerare per la parte carriera. A me fanno, non ridere, però mi stupiscono ogni tanto contenuti che vedo in giro, che probabilmente attingono a una matrice molto americaneggiante anche della narrativa aziendale, quindi tutti questi vai, prendi, pa, negozia, fai questo, questo, quest'altro. Le aziende, soprattutto quelle più strutturate, hanno una governance e delle cose molto complesse, nel bene e nel male, per cui i margini di manovra per i manager sono molto più risicati di quanto possiate immaginare. E quindi che succede? Che la promozione non è banale. Cioè, io vi invito sempre, quando si tratta di affrontare argomenti delicati, soprattutto quelli che apparentemente mettono in contrapposizione noi, il dipendente, con l'azienda, vi invito sempre a fare due passaggi. Il primo, l'azienda non esiste. Non esiste l'oggetto azienda, a parte il fighissimo mouse nuovo che ho comprato. Esistono persone che agiscono in nome dell'azienda, seguendo strategie, guideline e una governance che è stata scritta da altre persone che lavorano nell'azienda e via dicendo, ok? Per cui, dall'altro lato, ci sono persone come voi che stanno affrontando problemi diversi dai vostri. Mettetevi dall'altro lato. Io vi dico, per esempio, come funziona quando c'è il discorso delle promozioni. Mi ci sono trovato personalmente. Team, tu vedi il tuo team e dici, ok, c'è questo team di 10 persone, di queste 10 persone c'è questa persona che è meritevole. E quindi potenziale candidato per la promozione. Va bene, magari tu sei quella persona, quindi tu vedi il tuo quadrato, la tua finestra di azienda. Quel team ce ne sono altri 10 in altri 10 siti o in altri 10 nazioni, ok? Stessa situazione, ognuno di loro ha un potenziale candidato. Per X motivi l'azienda, quell'anno, può promuovere 4 persone. Ora, perché il tuo candidato è migliore dell'altro? In base a cosa dovresti fare questa valutazione? Ed ecco che scatta il discorso gerarchico, per cui probabilmente ci sarà il capo Europa che è la persona a cui tutti i manager di questi candidati riportano. E allora immaginate questi 10 manager che sono in riunione con il capo e ognuno dice io ho questo candidato, io ho questo candidato e questo candidato. E loro, a livello azienda, dicono ok, abbiamo un challenge che è 10 candidati, 4 promozioni. E a me è capitato, per esempio, di avere questo capo che ha fatto fare un lavoro collettivo molto istruttivo e molto anche difficile perché diceva ok, tu hai il tuo candidato però conosci anche le situazioni dell'altra nazione e quel candidato perché ovviamente si lavora tutti insieme abbiamo visibilità come manager a metterli vicino sono entrambi meritevoli però magari qualcuno ha affrontato una sfida più difficile perché quella nazione quest'anno ha affrontato problemi più grandi oppure ha dovuto risolvere un problema specifico che l'altro non... No? Cioè, pensate che l'azienda ha il problema di non poter dare la promozione a tutti tutti vorremmo avere budget illimitati che significa che veniamo da una redditività illimitata degli investimenti e da una crescita illimitata dell'azienda e via riscrivendo le aziende tech growth sono quelle che non hanno mai avuto problemi economici per vent'anni e ora si sta scontando tutto quanto mondo petrolifero negli anni 70-80 non c'era nessun problema di budget mondo bancario mondo farmaceutico mondo... Ogni settore ha avuto il suo periodo d'oro in cui si assumeva in maniera estremamente non aggressiva ma estremamente ottimistica c'era perché c'era un business dietro da supportare nella crescita e poi quando cambiano le situazioni devi imparare a gestire Ecco, all'azienda non fa piacere avere quattro posti per dieci persone a nessun manager fa piacere avere sei persone non contente ok? Anche se tutti pensiamo che i manager sono delle cattive bestie che godono nel farci soffrire nel dirci di noi e via dicendo ma come dicevo sono persone che devono vivere con il loro challenge così come per te il challenge è magari avere un budget e decidere come gestirti il fornitore o a chi dare il servizio a chi no a chi darlo prima a chi dopo al manager c'è la stessa situazione rispetto alla tua promozione e per loro rispetto alla loro promozione e via dicendo quindi questo è un problema da considerare ora, questo preambolo lunghissimo per la domanda di Samuele è cosa c'è a monte della richiesta di promozione e anche del rifiuto cioè questa richiesta di promozione come è stata fatta in base a quali dati cioè una cosa è andare out of the blue dal capo a capo mi aspetto una promozione per questo motivo molto probabilmente i giochi sono stati già fatti perché queste cose che vi ho descritto prima rapidamente avvengono in mesi voi dovete immaginare che soprattutto un'azienda strutturata ha dei processi di revisione dei talenti di mettere in short list quindi c'è tutto il leadership team che si vede periodicamente ci sono delle persone del vostro team che vedete come potenziali c'è il succession plan da fare dove se io dovessi andare via i candidati che potrebbero sostituirmi sono questi insomma è una cosa molto complicata per cui arrivare overnight con una richiesta dall'altro lato non è necessariamente una struttura che ti può dare un sì o un no poi sei tu rispetto a tanti altri candidati e poi è da capire appunto com'è nata perché in quel momento hai fatto la richiesta di promozione c'è stato un discorso prima col capo o meno questa è una delle cose molto delicate da gestire e bisogna anche stare attenti a come viene posta la domanda per evitare disappointment sorprese e via dicendo e ricordate che nel bene e nel male c'è la componente umana che è molto forte a cosa faccio riferimento? faccio riferimento al fatto che sia noi che le persone con cui ci confrontiamo in queste riunioni siamo persone per cui volenti o nolenti abbiamo una parte di ego in mezzo una parte di dinamiche particolari una parte di comunicazione verbale e non verbale e via dicendo quindi sicuramente bisogna stare molto attenti alle dinamiche ora se dall'altro lato c'è un rifiuto ragazzi nel mondo reale e nella professione in particolare l'allenamento alla gestione del rifiuto è necessario e soprattutto inevitabile in tantissimi settori poi ti dicevo Samuele bisogna vedere specificatamente cosa viene cioè cosa è successo attorno a questo a questo evento però ripeto considerate che state parlando di un passaggio molto importante quello di una promozione di un aumento stipendio e via dicendo proprio perché fa parte di un processo spesso molto più articolato di quanto possiamo immaginare non sto difendendo una posizione un rifiuto e via dicendo ma sto cercando di farvi capire qual è il livello di complessità che sta dietro questi passaggi Gianluca dice 31 anni e 11 anni di esperienza in supply chain ho preso una trenale ingegneria gestionale telematica bella mia posizione ha senso proseguire con la magistrale senza trascurare il lavoro ah allora molto interessante questo esempio Gianluca parla di esperienza professionale già 11 anni quindi tanto supply chain che è un settore molto interessante ed è uno dei settori interessanti sia come punto di ingresso che di uscita lato carriera perché ci sono varie competenze sviluppate e dice ho preso la trennale a livello con l'università telematica ha senso fare lo sforzo per la magistrale beh Gianluca queste in realtà sono domande alle quali tecnicamente devi e puoi rispondere prima tu nel senso che questo titolo uno perché l'hai preso perché lavorando già con esperienza hai deciso di metterti in discussione e di investire tempo risorse monetarie risorse mentali energia a prendere un titolo di studi poi a fine titolo di studi sono 13-14 in università telematica ora non so in quale specificatamente però il punto è questo titolo di studi cosa ti ha dato rispetto al lavoro sicuramente qualcosa come gratificazione personale qualcosa di friccicarelle stuzzicante per l'ego no? l'essermi comunque preso la laurea quello che hai imparato in questi tre anni di teoremi dimostrazione ed esami è molto vicino a quello che stai facendo lavorativamente ti ha dato contenuti struttura che ti ha permesso di crescere queste sono le domande a cui tu puoi darti una risposta perché l'hai conseguita questa laurea e complimenti perché sicuramente impegno notevole ma l'hai conseguita tu lavorando quindi sicuramente sei riuscito anche a sfruttare delle sinergie tra quello che studi e quello che fai in azienda però tecnicamente il punto del lo rifaresti per sintetizzare un attimo la domanda lo rifaresti lo è una cosa a cui puoi rispondere soltanto tu cioè se ora dovesse venire in chat un ragazzo a dire ciao ho 8-9 anni di esperienza e sono in supply chain secondo te vale la pena che mi massacro per tre anni tutte le sere e mi prendo la triennale dall'università telematica in ingegneria gestionale ecco Gianluca tu devi rispondere alla sua domanda prima che sarà il gancio per rispondere alla tua domanda hai acquisito delle conoscenze lì io parto sempre da un presupposto che soprattutto se siete già nel mondo del lavoro comunque imparate tantissimo per cui magari verificate il programma specificatamente consiglio anche di confrontarsi con i capi con i colleghi ha veramente senso cosa ne pensi io racconto di quando per due volte avevo preso la decisione di fare un executive MBA quindi investire un mare di soldi e soprattutto tantissimo tempo in l'executive MBA è l'MBA per persone che hanno una seniority minima di 10-15 anni a seconda della business school che lavorano e quindi si fa tipicamente nei weekend due uno o due weekend lunghi al mese e via dicendo in entrambi i casi poi ho deciso di non conseguire l'MBA avevo già superato le selezioni una volta alla business school di Rotterdam l'Erasmus business school quando ero in Belgio un'altra all'IMD di Rosanna quando ero in Svizzera in entrambi i casi poi alla fine direi anche per fortuna non l'ho fatto ma nel secondo caso poi mi sono confrontato con dei colleghi e uno mi aveva detto una cosa interessante che era sai Maurizio in realtà se tu metti tutta quell'energia e quel lavoro extra che ti viene richiesto dal dallo studio per l'MBA nel lavoro partecipando a più progetti facendo più cose ti crei una reputazione un network un portafoglio di risultati e anche una una professionalità da curriculum proprio che probabilmente vale molto di più di quell'altro investimento non è banale come considerazione da fare e poi sì tutte quante le statistiche ti parlano degli lauree gli investimenti e via e via dicendo però tenete la mente questa cosa cioè queste energie ha senso metterle lì o altrove il programma di studi di questi due anni aggiuntivi è attuale o no tu che sei in supply chain quando vedi le cose che si studiano a ingegneria gestionale ti viene da ridere o dice ah cavolo ecco quello che non capivo questo mi serviva per razionalizzare a pelle te la puoi risparmiare però dipende dai settori magari è proprio un fatto anche di passione oppure ti serve per fare determinati scatti e va considerata quindi varie una risposta molto articolata la classica ok Omar chiede tu come effettui un bilancio dell'evoluzione di carriera a 5 anni quali variabili consigli di tenere presente bella bella domanda la pianificazione di carriera vita e via dicendo secondo me ha 5 anni come esercizio ideale poi si fa il decennale più come virtuosismo però diciamo il 5 anni è quello su cui puoi veramente lavorare anche suddividendo in quarter ed entrare per lo meno per i primi due anni quarter ed entrare in dettagli un attimo più interessanti c'è una doppia parte tu parli di bilancio e poi c'è anche la parte di pianificazione allora il bilancio ovviamente è guardarsi indietro come sono andati questi ultimi 5 anni la pianificazione è come voglio far andare i prossimi 5 anni diciamo che in entrambi i casi quando si tira una linea non può essere fatta a compartimenti stagni per cui bisogna considerare più settori se io considero i miei 5 anni fa in questi 5 anni ho passato la vita nei tribunali per la separazione la mia carriera ha avuto tanti sviluppi positivi e tante parti molto challenge la vita e quindi la carriera ha dovuto prendere una piega completamente diversa non pianificabile perché un evento come la separazione ti fa cambiare completamente la traiettoria sotto vari punti di vista ed ecco che 5 anni fa la mia pianificazione era basata su certe aspettative il mio bilancio è quasi basato più sul damage control no? cioè proprio quasi disaster recovery se vogliamo nel senso che guardandomi indietro dico sono riuscito a gestire molto bene queste criticità le cose che sono successe ho dato le priorità giuste ho preso le bordate sono comunque andato avanti e va bene quindi nel bilancio indietro è molto difficile farlo tenendo in considerazione soltanto una parte nella pianificazione tengo conto di quella che è la mia nuova situazione e diciamo quando tu parli di KPI quindi parametri da tracciare e diciamo questo è un attimo l'esercizio che si collega anche al design your life il video che avevo fatto ormai più di un anno fa penso probabilmente merita anche un remake diciamo che nella parte pianificazione io cerco sempre di vedere la carriera come parte di un qualcosa di più grande che lo è la cosa più grande è la nostra vita perché sarebbe un gravissimo errore pianificarla come silos in isolamento quando faccio la parte di consulenza di carriera lavoro molto su questo anzi devo dire che probabilmente 30-40% di tutta quanta l'attività che faccio con le persone con cui collaboro ruota proprio attorno a questo cioè voi dovete considerare più pilastri analizzarli individualmente per non farvi coinvolgere per non contaminare però poi devono essere messi insieme ecco se io dovessi oggi mettermi a lavorare sui miei prossimi 5 anni mi metterei sicuramente degli obiettivi a livello di risultati rispetto alla situazione con mia figlia risultati rispetto al tipo di lavoro che faccio un parametro sicuramente che traccerei perché traccio io venendo dalla scuola di Mr. Rip io l'ultimo del mese ogni sera aggiorno il mio patrimonio e sicuramente aggiungerei una dimensione relativa alla prendermi cura di me a livello di salute tempo dedicato a me e via dicendo perché queste cose nella parte pianificazione vanno fortemente correlate perché se c'è un momento in cui tu hai bisogno di uscire da una situazione difficile che significa probabilmente un anno di lavoro in una sfera più personale devi tenerne conto quando inizi a fare delle proiezioni di quello che può essere la crescita o il challenge nelle altre dimensioni per cui sicuramente a oggi proprio come risposta al volo farei riferimento alla parte patrimoniale alla parte familiare ovvero con mia figlia alla parte tipo di progetti di cui sono responsabile se vogliamo la parte carriera la riassumerei così indipendentemente dal fatto se mi sposto di divisione se cambio job title promozione o meno però metterei molto ben in chiaro che tipo di attività voglio fare poi dove come con chi quello è fine tuning e si fa e poi appunto questa parte self care è la parte patrimoniale farei questo tipo di esercizio però è molto interessante confrontarsi con la pianificazione fatta anni prima perché appunto nel bilancio come dicevo ci sono tutti quanti i contributi delle varie dimensioni della nostra vita che sono lì per fortuna ok il lavoro è inevitabilmente impattato da eventi grossi che sia un evento di salute che sia un evento di separazione che sia un evento di problematiche di famiglia e via dicendo il lavoro viene molto impattato c'è un'immagine molto bella che avevo sentito una volta dice voi dovete immaginare questa è una una bella perla di saggezza che ho ascoltato e vi rigiro voi dovete immaginare siete giocolieri con diverse palle c'è quella del lavoro quella dei soldi quella della salute e quella delle relazioni quella del lavoro e quella dei soldi sono fatte di gomma quella della salute delle relazioni barra famiglia sono fatte di cristallo significa che se perdete il lavoro potete recuperare se perdete soldi potete recuperare se perdete la salute o vengono meno determinate relazioni ahia ok è una bella immagine questa magari ve la potete anche adattare su altri su altri argomenti però il discorso del giocoliere e queste palle che alcune sono di gomma e altre di cristallo non è banale come messaggio nel mio caso ho dovuto gestire una situazione estremamente complessa che si articolava su più nazioni sono stato molto fortunato perché ho avuto un ottimo capo e degli ottimi colleghi che nei momenti veramente più difficili mi hanno mi hanno protetto nel senso che ho potuto gestire il carico di lavoro con in base a determinate esigenze e anche determinate capacità perché poi se tanta energia va a finire in una situazione così difficile comunque ne risenti anche lato lavorativo e lì ovviamente ho anche se vogliamo capitalizzato la credibilità ai risultati degli anni precedenti per cui se per x anni performi va bene tutto quanto la volta in cui è un problema nessuno esita a farti da da scudo attorno e quindi anche lì ho molto molto apprezzato il comportamento del mio capo anzi dei miei capi perché nel frattempo avevo anche cambiato è l'azienda ecco quello è proprio uno dei casi in cui più abbiamo fatto un'analisi di che cosa è importante per noi quei pilastri di cui vi parlavo prima è meglio abbiamo pianificato allora il piano ovvio che va a gambi all'aria però i principi e i ragionamenti dietro ci sono e quindi è molto più facile puoi prendere decisioni su cosa è importante e cosa non lo è per questo io continuo a dire che la self-awareness è la parte più importante per la vostra carriera non è il curriculum non è il profilo linkedin non è il tutti quelli vengono naturalmente se la parte di self-awareness è stata fatta bene no il musicista mi ricordo c'era l'esempio di Tochigno i quarantenni e cinquantenni tra voi se ci sono se lo ricordano chitarrista strepitoso e tutto quando gli chiedevano come fai a essere così bravo lui diceva perché io padroneggio proprio da Dio le basi proprio i fondamentali una volta che quelli ci sono tutto il resto viene naturale allora la stessa cosa nel momento in cui avete chiari i principi i valori le priorità al cambiare della situazione sapete già come mettere in ordine i vari pezzi è tostissima ovviamente cioè ci mancherebbe altro però quell'analisi a monte aiuta è del solito discorso che queste cose le devi fare prima cioè nel momento in cui hai bisogno di queste risorse se prima non hai avuto un allenamento un modo di ragionare tutto da dove le tiri fuori se stai con diciamo l'acqua alla gola ma anche altro in Italia è pieno di persone scontente polemiche e poco e poco positive anche all'estero è così come non farsi coinvolgere è vero l'Italia è mediamente un po' più incazzata delle altre nazioni io ho fatto ora tre diciamo due lunghi periodi all'estero però sì quando torni vedi le persone sono preoccupate le persone sono spaventate le persone hanno problemi che non pensavano di dover affrontare paure spettri di inflazione alla fine diciamo il 90% sono problemi legati al denaro è inutile che ci giriamo attorno e ci raccontiamo chiacchiere perché il mondo del lavoro è quello che è perché le prospettive della pensione sono quelle che sono perché cambiare il datore di lavoro in Italia è visto come un donatore di lavoro no e tutto questo aiuta a creare un clima abbastanza teso città che io ho sempre visto come abbastanza tranquille negli anni il quotidiano anche per le strade si nota anche questa cosa e poi il discorso sì della polemica e della lamentela fa parte del fattore uno dei fattori umani di cui parlavamo prima all'estero allora a pelle no ovviamente se vai in Svizzera la situazione è completamente diversa e non è la nazione non è il paradiso sotto questo aspetto non è che la gente è felice tutti saltellano come Heidi con le caprette e via dicendo però ci sono delle nazioni dove c'è molto più un discorso di costruire lavorare tutto nazioni comunque stanno anche cambiando tantissimo pensate soltanto a cos'era l'Inghilterra x anni fa che cos'è oggi no quanto hanno visto sconvolgersi cose come le persone hanno visto ribaltarsi completamente gli effetti della Brexit e via dicendo all'estero a pelle per la mia esperienza estesa all'estero ma ovviamente ridotta come numero di persone con cui ho veramente avuto contatto la situazione non è così drammatica però dovete anche considerare che tu quando sei all'estero mediamente vivi in una bolla in una bolla intesa che sei un professionista all'estero un expat tutte le persone con cui hai a che fare sono persone che comunque parlano inglese se non sono proprio colleghi se non sono persone che sono lì anche loro con prospettive di carriera e tutto per cui un po' sei in una bolla parliamoci che rettondo però sicuramente ho visto un peggioramento in Italia lo percepisco come non farsi coinvolgere e come per tutte quante le altre cose ragazzi cioè non voglio dare un messaggio con un taglio da egoiste o via dicendo ma la soluzione individuale cioè nel senso che non potete aspettare che il sistema scolastico e accademico cambi e che un domani qualcuno venga a insegnarvi inglese sapendo parlare inglese in Italia non accadrà punto rassegnate tocca a voi prendete quel cacchio di telecomando mettete i film in inglese e iniziate da lì prendetevi a Simil vi ho fatto anche un video e iniziate da lì sta a voi e io quello che faccio adesso smetto di cercare di convincere le persone che c'è un'alternativa è pace quando vedi le persone che una dopo l'altra cadono perché diventano house poor no? il famoso discorso il mantra in Italia del mattone che non tradisce mai quindi persone che assolutamente non se lo possono permettere però non è che puoi ogni volta litigare passare per il rompipalle o il saputello che va lì e cerca di spiegargli no guarda che se fai i numeri attenzione perché potresti eh purtroppo senza essere qualunquisti egoisti e tutto però dovete fare la vostra gara se qualcuno di voi va in moto quando va in moto devi fare la tua cioè devi pensare alla tua traiettoria e quello è fondamentale non farsi coinvolgere come in tutte le altre cose perché tu hai i tuoi valori i tuoi ideali ovvio che è molto accogliente il greggio ragazzi eh parliamoci che rettonde è bello stare alla macchinetta del caffè e darsi tutti ragione che quanto sono cattivi i manager e quanto è sbagliato l'azienda e quanto sono bassi gli stipendi e quanto è brutto il lavoro e quanto è molto caldo e avvolgente e accogliente quell'angolo però vuoi uscirne ma per voi non per gli altri quindi non uscirne ah io e devi andare a rompere le scatole a dire a tutti che sono sbagliati fate il vostro percorso e e via dicendo ok ok cioè non è che c'è una risposta univoca con cui uscirne bene su questo argomento però spero di aver condiviso un attimo il il principio Omar chiede nell'ambito del tema personal knowledge management io personalmente osservo che stanno emergendo una marea di temi molto interessanti come gestire tale mole di info in modo strutturato bello per chi non lo conoscesse il personal knowledge management PKM è fondamentalmente il sistema che uno mette in piedi per gestire tutte le cose che studia che acquisisce e via dicendo in Italia trovate cioè in rete trovate tantissime informazioni per esempio una delle cose classiche Tiago Forte Build e Second Brain interessantissimo Notion Rome Research ehm prima c'erano i vari tool della Microsoft Notes mi sembra e via dicendo cioè per me c'è una cosa a cui fare attenzione comunque imparerete sempre tantissimo al lavoro on the job training in maniera più strutturata a livello accademico libri che leggete sapete che io anche sono un un lettore di libri non più compulsivo però diciamo sì comunque sono costante le mie giornate se non sto lavorando se non sto facendo contenuti se non sto lavorando sul mio eh business ora sto preparando videocorsi e tutto sto comunque vedendo video ascoltando podcast e via dicendo la televisione che c'è là dietro fondamentalmente la vedo soltanto con mia figlia per i cartoni animati ma tornando al personal knowledge management c'è una cosa secondo me a cui bisogna fare attenzione uno ricordatevi che che questa viene bene in inglese you can be anything you can't be everything cioè voi potete essere qualsiasi cosa da piccoli potete fare dall'astronauta magari non più il cowboy però dall'astronauta al pilota all'ingegnere all'espo potete essere qualunque cosa diventare qualunque ma non potete diventare tutto cioè a un certo punto dovete stringere il settore e andare là lo stesso vale per quanto riguarda la parte studio ci sono i famosi rabbit hole che inizia un argomento mentre in un rabbit hole appunto la tana del coniglio e io faccio attenzione a una cosa nel senso che primo non mi faccio più intrappolare dallo strumento cioè io mi sono accorto quando era partita tutta questa parte c'era Rome Research Notion poi ce n'era un altro manco mi ricordo più ma ho passato forse un mese e mezzo due a studiare i tool per capire qual era quello più figo Rome Research ti faceva quel diagramma bellissimo però a me esteticamente piacere più Notion ma quell'altro ti faceva l'input giornaliero e alla fine perdi così tanto tempo nel cercare lo strumento che ti perdi la parte più importante che è il crescere e imparare tutto io ora sono molto più tollerante e permissivo con me stesso nel senso che va benissimo alcuni libri ce li ho in fisico molti altri ce li ho su su Kindle sì Ali Abdal ti spiega quanto è figo che vai sottolini su Kindle così poi estrai ti fa riassunti e sti cazzi ragazzi non lo faccio non c'è problema mi leggo un libro non ho il mio archivio con il fighissimo riassunto di due pagine di ogni libro che ho letto non morirò considerate anche una cosa che io ora ho 51 anni per cui ho scollinato quella fase però magari fossi ventenne allora avrebbe senso investire un'ora dopo aver letto un libro per creare il mini riassunto perché domani come Ali Abdal ne tiro su un business una newsletter un pacchetto qualunque cosa però vi consiglio di scegliere pick your battles cioè scegliete le aree interessanti per voi e non cadete nella trappola di dover confrontarvi con quelli che fanno duemila cose anche perché i content creator sono content creator cioè il faccio un esempio il Matt D'Avella per chi non dovesse conoscerlo che ti testa tremila cose è il suo lavoro testare le cose per 30 giorni e poi addio farti il contenuto guadagnarci su quel contenuto e poi dopo che si è fatto 30 giorni la doccia fredda per dirti com'è la doccia fredda e si è svegliata le quattro e mezza per dirti mentre se lo facciamo noi sembra che se non ci svegliamo alle quattro e mezza poi ci facciamo la doccia coi cubetti di ghiaccio e poi ci leggiamo due libri facciamo il bullet journal e poi le flessioni e poi è siamo degli sfigati perché non facciamo queste cose raga tranquilli cioè non è morto nessuno per l'assenza della morning routine che sono tutte cose estremamente affascinanti ma siate molto più tolleranti con voi stessi e sul personal knowledge management trovate qualcosa che non sia che non vi mangi più tempo di quello necessario anche perché sinceramente io ho conservato le mie moleskin degli ultimi dieci anni e poi le butti perché non credo che a 80 anni mi vorrò sedere e aprire il baule con i miei 40 anni di molesca a parte che non sarò in grado di leggerle ma capì va bene lasciate andare cioè penso sia importante avere un approccio anche un attimo più minimalista a queste cose perché se no si entra in una fase bulimica di competizione sugli strumenti sulle quantità sugli argomenti e tutto e non possiamo essere tutto io personalmente faccio questa cosa uso Notion mi dimentico di usarlo a volte mi dimentico pure di sono molto caotico personalmente non vi inquadro la scrivania perché se no poi ditano questo non può essere laureato in ingegneria però cioè va bene studiate tutto quello che vi interessa trovate le parti fate attenzione ecco una cosa importante per la parte knowledge management è cercate delle fonti serie non per ogni argomento ci sono 300 persone che ne parlano e 5 che dovrebbero parlarne Wittgenstein nel suo finisce il suo Tractatus Logicus Philosophicus con il di ciò di cui non si sa si dovrebbe tacere ecco purtroppo questa non è una regola universalmente applicata per cui trovate chi ha dei contenuti di spessore selezionate quei pochi non vi preoccupate se non se non studiate tutto di tutti e trovate una maniera molto light molto rapida per tenervi le cose perché vi assicuro che oh buon per voi se trovate il tempo per andare indietro e guardarvi le cose che avete studiato tre anni fa io a stento riesco a studiare quelle che voglio studiare oggi figuratevi se poi mi porterò indietro quelle cose che nel frattempo diventano vecchie obsolete ci se le dimentica quindi molto più sono molto più tranquillo di quando ho iniziato già il solo scoprire che esiste un concetto come personal knowledge management per me è stata una figata anche al lavoro è la stessa cosa visto che parliamo di carriera e lavoro sì io ricordo ho avuto capi che negli anni analogici anni 90 ci avevano l'armadietto con la cassettiera con il cassetto quello profondo con gli schedari in verticali avevano tutte quante le cose scritte su ora cioè va bene se avete qualche folder online dove mettere tutto quanto però io personalmente ho deciso di smettere di cercare di investire nel tool totale che metti la keyword e ti ricorda tutte le volte che ma che cazzo me ne frega se sette anni fa ho usato la keyword tarzan in un te lo so sono cambiato sono un'altra persona oggi mi preoccupo molto più dell'oggi e del domani quindi va bene come vedete è un probabilmente è un approccio che viene la saggezza dell'età però ci siamo capiti sì ecco FOMO Fear of Missing Out è esattamente quello cioè a un certo punto c'è una fase bulimica di devo prendere tutto devo fare tutto devo leggere tutto devo come per gli investimenti no? il peggior danno che puoi fare è voler essere ovunque selezionate quelle che sono le vostre cose e andate avanti su quello Gianluca chiede ci sono responsabili che hanno caratteri forti e un po' arroganti sì persone ma come fare invece quando si ha poco polso e si è forse un po' troppo buoni se si vuole ambire a ruoli manageriali allora prima cosa un saluto a Finance a Basel è un collega io sono stato a Basilea per otto anni sono tornato a Roma nel novembre 2021 e mi manca un saluto a Basilea è una città meravigliosa che ho amato tantissimo allora il persone manager un po' forti arroganti e tutto secondo me lì è molto un fatto di stile personale non si deve essere né arroganti né troppo buoni nel senso che ognuno ha la sua personalità quando fa carriera se la porta dietro nel suo stile ovvio che se sei un sargento istruttore probabilmente deve avere un certo tipo di personalità e un certo tipo di comportamento e attitudine e comunicazione per essere lì però a livello aziendale io ho avuto tantissimi manager persone squisite l'arroganza o un tipo di comunicazione troppo assertiva l'ho vista abbastanza raramente il principio fondamentale è porti il tuo stile con te nella tua carriera cioè addirittura una distinzione poco specifica persone people oriented e persone task oriented tu puoi avere due persone che hanno questa tipologia di approccio e c'è stato un momento in cui io che non sono probabilmente la persona più brava nel gestire alcune relazioni più empatiche e tutto però c'è stato un momento in cui tra me e un collega ero io il people oriented perché quell'altro cioè lui vedeva soltanto la task list e neanche si rendeva conto che era spigoloso per alcune persone e io mi accorgevo più delle conseguenze degli effetti e cercavo di ammorbidire quella parte ma non è un fatto di essere buoni probabilmente può anche essere semplicemente un fatto di stile di comunicazione di maniera di mettere le priorità e via dicendo non dovete e non potete snaturarvi cioè non potete fare carriera per prendere quella posizione devo diventare arrogante assertivo no io sono io se ho questo stile e quello con cui sicuramente sono cresciuto e rispecchi i miei valori se c'è qualcosa di me oggi che non mi piace ma per me non perché c'è lo stereotipo di gecko del film americano ma per me quella parte va cambiata va migliorata allora ci posso lavorare sopra e ci sono anche per questo molti training nelle aziende e fuori dalle aziende e in quella maniera costruisco la mia carriera sul mio stile sul mio pensate quanto sarebbe terribile per una persona che vi conosce vedere che appena diventate manager diventate altro c'è una frase bellissima che mi ha mi ha aiutato a leggere molte situazioni lavorative negli anni qualunque idiota può affrontare le difficoltà cioè brutta dirsi però no qualunque persona può attraversare difficoltà perché quando c'è il casino tocca attraversarlo ma se vuoi conoscere veramente il carattere di una persona dalle un minimo di autorità ecco lì scoprite veramente le persone quali sono se ci fate caso è quello che si dice no quando vai nelle cene tutto tu capisci le persone che c'è attorno da come si comportano per esempio con i camerieri nei ristoranti o con la persona alla reception e tra l'altro ricordatevi è uno dei check che fanno quando ci sono i colloqui se tu arrivi e sei arrogante perché è solo la persona alla reception vieni tracciato su queste cose no cioè tu vedi le persone la loro vera natura vera natura appena gli dai un briciolo di autorità e se qualcuno si trasforma non si sta trasformando sta semplicemente rivelando qual è la sua vera natura e per cui io mi aspetto che tu un domani quando avrai l'autorità che sia gerarchica che si sia a livello di autorevolezza rispetto a autorità e via dicendo non cambierai il tuo modo di essere e lo farai con il tuo stile e con il tuo il tuo approccio l'essere troppo buoni non mi piace come cosa magari articola meglio però sicuramente è una cosa da considerare questa che ognuno porta con sé il suo stile tant'è vero che ci sono anche tantissimi stili di management ci sono tutti i vari stili le varie personalità tutti quanti i test conoscete anche il mettersi gli almetti a seconda dei ruoli e via dicendo ovvio che ci sono dei momenti nel lavoro in cui devi difendere posizioni prenderti i proiettili per proteggere il team dover gestire situazioni critiche prendere decisioni anche sapendo di dover poi gestire le conseguenze ma quello non è un fatto di essere buoni o arroganti l'è un fatto di essere competenti decisi e determinati e lo posso fare col sorriso sulle labbra o facendo il personaggio del film americano degli anni 70 perché mi piace fare il personaggio ho conosciuto anche manager che si gongolavano nel sapere che le persone raccontavano di quando hanno lanciato dieci cellulari contro il muro se la gente è così sfigata che ha bisogno di costruirsi il personaggio su queste cose buon per loro mi spiace per il loro marito o moglie a casa però diciamo non ci possiamo fare niente è quella parte umana di cui parlavamo prima non si ambisce a ruoli manageriali diventando uno stereotipo assolutamente o se dovete farlo scegliete stereotipi e modelli positivi senza nessun problema quando si cerca il lavoro stiamo preparando i nostri documenti quindi il curriculum il nostro linkedin cosa fare se abbiamo dei problemi con il job title e nello specifico mi hanno fatto una domanda su due scenari il primo se il job title non rispecchia quello che facciamo realmente l'altro se il job title è molto specifico per l'azienda e magari non viene riconosciuto all'esterno da recruiter allora sono due scenari molto interessanti che fanno parte un po' della tattica nell'approccio alla ricerca del lavoro e della preparazione dei tool mi spiego molte aziende hanno una maniera di chiamare i lavori che è tutta loro e non necessariamente dice che cosa stai facendo io ho cambiato negli anni forse una quindicina di job title e non è facilissimo capire quello che stavo facendo in base al job title è così per tantissimi tantissimi colleghi ora se doveste essere in una situazione del genere fatevi furbi nel senso che a mio avviso non potete cambiare il job title cioè se io sono assunto con il titolo di specialist technical specialist non posso scrivere nel curriculum che sono contract manager per due motivi il primo perché nel curriculum non si mente mai proprio come punto di partenza il secondo è che una forzatura del genere rischia di mettervi in cattiva luce perché quando poi fanno un check o se magari c'è qualcuno della vostra azienda ok e dice ma che fai ti spacci per una cosa che non sei e non va bene allora se doveste essere in una situazione tale per cui il vostro job title per qualunque motivo vi danneggia toglietelo cioè stressate quello che fate in azienda non c'è il job title questa è l'azienda dal 99 sono lì e queste sono le cose che faccio se arrivo al momento in cui mi chiedono il job title dico guarda non l'ho messo perché usano una struttura che non corrisponde a però quello che fate che avete messo nella descrizione nel vostro curriculum nel vostro profilo quindi le keyword il perimetro di responsabilità le attività le competenze quello è tutto vero e allora portate quello in superficie e togliete quel minimo ostacolo che è un job title che vi danneggia per x motivo e questo vale anche nell'altro caso cioè nel caso in cui l'azienda chiama supervisor green bottle qualcosa che tutti gli altri chiamano facility manager e vabbè se quelli so pazzi e usano quello o per motivi storici o per una codifica interna o per una cattiva traduzione da un'azienda che ha origine non c'è problema anche lì giocate sulle sui ruoli sulle keyword sulle attività che fate oppure scritte lavoro nel settore nella divisione facility management e faccio queste cose ripeto in questo caso non state mentendo non state alterando e state semplicemente evidenziando queste cose un esempio simile a me è capitato perché a un certo punto ho dovuto fare una candidatura per una parte relativa al facility management ma la mia posizione assolutamente rilevante per quella non era l'ultima ma la penultima quindi che cosa ho fatto ho organizzato il curriculum in ordine non cronologico quindi chi ha preso il mio curriculum la prima cosa ha detto porca miseria questo fa proprio il lavoro che facciamo noi e poi l'ultimo anno che stavo facendo una cosa un po' diversa l'ho messo dopo e poi mi sa ma questo ma come c'è un anno gap no è che li ho messi in ordine di rilevanza rispetto alla posizione ed è stato apprezzato quindi non ho mentito non ho falsificato niente cioè non ho detto cose una per l'altra ma ho portato in superficie come mettere in grassetto quello che era più rilevante per la candidatura a mio avviso questo è un modo molto smart per aggirare il problema di un job title non corrispondente alle mansioni o a quello che il mercato cerca vi ricordo che sono disponibili i test di autovalutazione per professionisti e per studenti ci sono i link nella descrizione di tutti quanti i miei video quindi rispondendo una trentina di domande ricevete un report di alcune pagine dove ci sono dei consigli e delle analisi sulle varie dimensioni sulla leadership strategia di carriera networking e via dicendo e poi c'è anche la disponibilità per richieste di consulenza di carriera individuale metto tutti quanti i link in descrizione a livello di progetti vedrete che nel canale adesso inizierò a fare delle ospitate in particolare in questi giorni registrerò un'intervista con un ingegnere tedesco che lavora in Svezia e questa ragazza ha un canale molto interessante in cui parla di diversi aspetti molto utili per la parte lavoro crescita si sta anche occupando di business appunto un canale youtube metterò nei prossimi giorni tutte quante le indicazioni e mi piace l'idea di iniziare a collaborare con altri content creator perché credo che ci possono essere degli ottimi scambi di contenuti mi raccomando ricordatevi di aggiungere delle domande o cose che volete approfondire nei commenti al video in maniera tale che possiamo iniziare a costruire la struttura per le prossime live ok allora grazie a tutti ci vediamo alla prossima live ciao e buona serata grazie a tutti